Sabato con partenza da Pegazzano e arrivo fino al Monte Parodi si corre una cicloscalata, l'appuntamento è a partire dalle ore 15. Dopo tanti anni ritorniamo a fare una cicloscalata a Spezia che si svolgerà sabato 10. Il ritrovo è giusto dal ristorante del Telegrafo e poi si percorrerà parte della strada che è stata fatta da Giro d'Italia nell'anno 2015. E' un particolare scenario suggestivo dati i tornanti della salita di Biassa e poi si entrerà nel vecchio borgo di Biassa e si arriverà tutti insieme sino in cima. Oltre al Telegrafo si arriverà proprio di cima in cima dallo spaccato sino allo scolinamento. E' una gara particolare, è campionato regionale AXI. Io ringrazio il presidente Gulinati della federazione che ci ha avuto l'opportunità di rendere possibile questa cosa e soprattutto di darci la possibilità di avere un titolo regionale da poter mettere in palio. A partecipare a questa cronoscalata ci sarà una squadra nata sostanzialmente da poco, l'Unione Sportiva Porto Venere, sezione ciclismo. Sì, infatti io ringrazio la borgata di Porto Venere, l'Unione Sportiva con la figura della presidente Barbara Pazzi e del segretario Pino Basso che hanno dato la possibilità a tutto il gruppo di creare qualcosa di nuovo. E' venuto fuori nel giro di poco un bel gruppo coeso, unito che sarà sicuramente presente alla manifestazione.